Benvenuti nel mondo Panerai La storia di Panerai inizia nel lontano 1860 quando Giovanni Panerai, un visionario appassionato di orologeria, inaugurò la sua prima boutique sul ponte Alle Grazie a Firenze. Questo fungeva non solo da negozio collaboratorio, ma anche come prima scuola di orologeria della città. Nel 1916 Panerai brevettò il famoso Radiomir, un materiale luminescente radioattivo, a base di radio, capace di rendere leggibili gli strumenti anche al buio. Nel gennaio 1949 è stato approvato un brevetto per utilizzare il nome Luminor da parte di Panerai, per i materiali luminescenti e autoilluminanti. Ma fu l'invenzione del Radiomir, che portò negli anni 40 la regia marina italiana a rivolgersi a Panerai per la produzione di orologi militari e subacquei, rendendolo fornitore ufficiale. La nuova manifattura No Châtel, in Svizzera, è il cuore pulsante di Officine Panerai, dove la passione per il mare e il design italiano si fondono con la tecnologia svizzera per creare orologi unici e di alta qualità. Officine Panerai ha portato la sua esperienza e il suo savoir-faire anche in Oriente, aprendo la prima boutique asiatica nel prestigioso landmark Princess Building di Hong Kong. Uno dei modelli più iconici è sicuramente il Luminor. Un orologio introdotto nel 1950, che prese il testimone del famoso Radiomir, mantenendo la robustezza e l'affidabilità, ma introducendo una serie di innovazioni. Tra cui l'iconica corona con protezione a ponte, che oltre a rendere l'orologio più sicuro da infiltrazioni d'acqua dovute ad urti involontari, ha ridisegnato l'estetica unica, diventando il marchio di fabbrica Panerai. Ma le innovazioni Panerai non si fermano qui. Officine Panerai ha deciso di sposare la passione per il mondo marino e uno storico patrimonio italiano, diventando il partner ufficiale del team Luna Rossa dal 2017. Condividendo la stessa passione per il mare e la tecnologia velica, Officine Panerai ha trovato ispirazione nella tecnologia di Luna Rossa per creare orologi che incarnano lo spirito sportivo dell'universo della vela. Insomma, la storia di Panerai è un racconto avvincente di passione, creatività, design italiano e tecnologia svizzera. La sua continua ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per creare orologi sostenibili, ma allo stesso tempo spettacolari e affidabili, hanno reso questo marchio un'icona dell'orologeria di lusso.